Siamo addirittura d'arrivo, dopo un anno circa di lavoro sulla parrocchiale di Gazzaniga, stiamo smontando la facciata, i punteggi sulla facciata. Tre lotti di lavoro, un lavoro abbastanza impegnativo, un lavoro abbastanza delicato. Abbiamo fatto il recupero conservativo della parrocchiale. Abbiamo tolto l'umidità dalle facciate, abbiamo sanificato dove c'è da sanificare, ma soprattutto abbiamo in facciata consolidato i distacchi del marmo e delle lastre di marmo. Abbiamo ripulito e sistemato tutto l'antico portale che potete vedere e ritornato all'antico splendore. Quindi penso a un restauro bello, almeno a mio punto di vista, ma soprattutto conservativo della parte storica e della parte muraria.